Io sono scappata dal dolore e ovunque provi a guardare è lì, è dentro di me. Che ha lasciato sua moglie perché non poteva più avere bambini e lei doveva andare fino là nella foresta. Credo di non essere qui per dimostrare a me stessa che sovvincere alla paura. Sono qui per scoprire altri valori. Tu sei contenta se riesci a farli battezzare, sposare, confessare? Perché dobbiamo fargli fare delle cose che non capiscono? Puoi sempre capire tutto. E lo preghi abbastanza. E sua figlia? L'ha sentita per le feste? Sì, sta bene. Ora voglio essere terra, terra con la terra. E perché la terra dia frutti, devo dimenticarmi di Dio. Se vuoi cambiare le cose, devi andare dove le cose bisogna cambiare. Ciao, mamma. Ciao. Avevo voglia di vederti. Tu la trovi? No. Un giorno senti che devi cambiare vita, che non puoi più stare dove stavi. Che devi andare, devi essere. Devi sperare. Aye. Due podéis per scopere delle cose. Anche la tua Rah v中areное passVER. Quasi la tempura, di lui. Che devi doare. Chehar. Chegari che pagare le cose. Chegaram la tua? Chegaram le cose. Chegaramvi l'ho acquistare. Chegaram giù. Chega di農 Witcher 3. Grazie per la visione!